Matteo adesso coach coach via tiragli la mano prendigli la mano e gira sento che gira fuori la gamba destra Matteo è tuo Matteo vai prendi bene la presa prendi bene la presa vai adesso eeeh non ti aiuto tienilo giù tienilo giù giù la testa dai lavora 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 ora Marco ce l'aiuto vai Matteo non è niente eh forza di nuovo via via adesso adesso non prenderlo bene non prende la frase Matteo non prende la frase va via 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 sei secondi l'ultima tasca l'ultima 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 non l'ultima passai attra l'ultima Grazie.